buongiorno ragazzi localizzato stiamo partendo da pollevilla mongomery camping il tempo e andiamo verso la bretagna fate i bravi e alla prossima ci vediamo durante il viaggio ciao grazie a tutti 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 a tutti e a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti